Il futuro del partito, il congresso indicherà la strada, la riforma dello statuto potrebbe introdurre le primarie. Nel caso i candidati sono già tre, Maria Stella Gelmini lo annuncia sul Corriere, Mara Carfagna, coordinatrice azzurra, conferma che sarà in gara, precisando che il leader resterà Berlusconi e anche Toti, l'altro coordinatore, è già sceso in campo. Le primarie non sono in sé buone o cattive, no a un terreno di scontro fra i signori delle tessere, si invece ha un confronto di idee e di programmi aperte al contributo di tutti coloro che come noi amano l'Italia. Domani la prima riunione del Borda 5 sulla roadmap verso il congresso.